Musica Buon pomeriggio e benvenuti a Prospettive da parte di Matteo Ciofi. Come di consueto siamo qui sulla terrazza della residenza Paolo VI. Cominciamo da domenica, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo e dall'Angelus durante il quale Papa Francesco ha parlato dell'Eucaristia come di una porta aperta tra la città di Dio e la città dell'uomo. Il Pontefice ha inoltre invitato i fedeli a seguire la logica del Signore, quella del dono e della condivisione. Un passaggio delle parole del Santo Padre. Questa logica è iscritta nell'Eucaristia. Riceviamo in noi il suo amore e lo condividiamo con gli altri. Questa è la logica eucaristica. In essa, infatti, contempliamo Gesù, pane spezzato e donato, sangue versato per la nostra salvezza. È una presenza che come fuoco brucia in noi gli atteggiamenti egoistici, ci purifica dalla tendenza a dare solo quando abbiamo ricevuto e accende il desiderio di farci anche noi, in unione con Gesù, pane spezzato e sangue versato per i fratelli. Nel pomeriggio di domenica il Pontefice si è recato a Ostia sul litorale romano, dove ha presieduto i riti del Corpus Domini. Papa Bergoglio ha celebrato la messa nella piazza antistante, la parrocchia di Santa Monica, e a seguire si è tenuta la processione con il Santissimo Sacramento attraverso alcune strade del quartiere, un estratto dell'Omelia del Papa. L'ampio lido di questa città richiama la bellezza di aprirsi e prendere il largo nella vita. Ma per far questo occorre sciogliere quei nodi che ci legano agli ormeggi della paura e dell'oppressione. L'Eucaristia invita a lasciarsi trasportare dall'onda di Gesù, a non rimanere savorrati sulla spiaggia in attesa che qualcosa arrivi, ma a salpare liberi, coraggiosi, uniti. Periferie, verità e speranza. Questi sono i tre punti su cui Papa Francesco ha incentrato il suo discorso ieri in occasione dell'udienza con una delegazione del Premio di Giornalismo Internazionale Biagio Agnes. Vediamo. Periferie. Molto spesso i luoghi nevralgici della produzione delle notizie si trovano nei grandi centri. Questo però non deve farci mai dimenticare le storie delle persone che vivono distanti. Sono storie a volte di sofferenza e di degrado. Altre volte sono storie di grandi solidarietà che possono aiutare tutti a guardare in modo rinnovato la realtà. Verità. È necessario essere molto esigenti con se stessi, per non cadere nella trappola delle logiche di contraposizione per interessi e per ideologie. Speranza. Non si tratta di raccontare un mondo senza problemi. Sarebbe un'illusione. Si tratta di aprire spazi di speranza mentre si denunciano situazioni di degrado e di disperazione. Domenica si è spenta all'età di 92 anni il cardinale Miguel Obando Bravo, arcivescovo emerito di Managua in Nicaragua. Personaggio chiave per la sua mediazione durante gli anni della guerra civile era stato dichiarato dall'Assemblea nazionale padre della pace e della riconciliazione. Il pontefice attraverso un telegramma ha espresso il suo cordoglio definendo Obando Bravo come un pastore che negli anni e con generosa fedeltà ha speso la sua vita al servizio di Dio e della Chiesa. È tutto anche per oggi. Grazie per la vostra cortesa e attenzione. Buon proseguimento con i nostri programmi ed appuntamento a giovedì. Tutti i venerdì alle 4.30 è il momento di Pagine Vaticane. Servizi, interviste ed esclusive per ripercorrere la settimana del Papa e non perdere proprio nulla di tutto quello che è accaduto intorno Piazza San Pietro.